Lo fa sentire così idiota e gli dà ragione. Poi il cane, il cavallo, anche il cavallo, ma il cavallo bisogna già essere un idiota un pochino più evoluto, ma chi cerca sfogo alla propria idiozia, in qualche modo cerca di mettere una pezza alla propria idiozia e si prende un cane, poi succede una cosa miracolosa che lui non mollerà mai più. Perché attraverso il cane lui inizia a sentirsi meno emarginato dagli esseri umani, gli odierà sempre di più perché si sentirà sempre un diverso, farà veramente al contrario di come hanno sempre fatto tutti gli storici animanti della natura e degli animali. Pensate ai santi, molti santi hanno amato molto gli animali, ci sono tutte le storie su San Francesco, su San Rocco ad esempio, dei cani, su un sacco di queste cose. Ma questi amavano innanzitutto gli esseri umani, poi ampliando il loro amore si sono già resi conto, si resero conto tanti anni fa che tutti gli individui erano senzienti e di conseguenza l'amore andava esteso. Andava esteso verso la natura, andava esteso verso qualsiasi cosa. Invece quello che prende un cane per dare sfogo alla sua idiozia, non fa questo ragionamento, lui vuole solo un qualcosa da poter gestire nel modo più facile possibile, da avere meno problemi possibile e non ne vorrebbe mai due cani, perché i cani quando sono in due iniziano a ritornare un po' animali, a intrattenersi fra loro, a non dargli abbastanza retta, allora diventano di nuovo come le altre persone, che quando capiscono che questi sono idioti li emarginano. Ma questa è una cosa naturale, non so se sia la natura che voglia l'emarginazione degli idioti. Fatto sta che è diventato un business, i cani talmente grandi, un business partito dagli Stati Uniti e tutti i nostri business che abbiamo qua in Italia, noi recicliamo i business dagli Stati Uniti, che si sono resi conto che gli idioti sono così tanti e sarebbero sempre di più, che bisognava raccontare una storia sui cani che gli piacesse tanto. La storia è, tu spenderai tanti soldi sui cani solo, se indipendentemente da cosa dice la zoologia, indipendentemente da cosa ti dicono le persone che vivono tutti i giorni con gli animali, che se ne occupano, che rinunciano magari alle vacanze, che fanno sacrifici, che studiano, guardate io ho un curriculum, chi mi segue lo sa, lo dico per gli idioti, perché questo video lo dedico specialmente per loro, specifico sui cani e direi anche, visto che mi occupo di alcune cose, di quelli che oggi sono un po' gli antagonisti dei cani, che possono essere i lupi, altri selvatici, è molto difficile ma mi sto già, sto già iniziando ad approfondire gli studi sull'orso, perché mi occupo di queste cose, di difendere la pastorizia dagli animali selvatici, io ho un curriculum di studio solo sui cani, ma non di studio sui libri, perché poi quelli che fanno i corsi, fanno i corsi apposta per gli idioti, se tu hai un idiota per le mani, tu non devi fare un corso dove ci sia della pratica, perché lui è l'idiota, quella pratica sarà finita, a te servirà, dovrai fare un corso dove lo farai studiare come un idiota, li farai studiare per anni, li farai imparare tutti i termini possibili, immaginabili, che esistono al mondo, e lui siccome è un idiota uscirà di lì e crederà di essere un cinofile, è la prima volta che avrà in mano un cane che gli dà una ringhiata e zitto zitto andrò da qualcuno, o si disfarrà del cane o troverà delle soluzioni del diotto, se no andrà da qualcuno e forse si ravvederà della sua idiozia e magari ricomincerà da capo a capire che la pratica ha la sua importanza. Ma l'idiota normalmente ha poca pratica, perché la pratica è un po' il sinonimo di fatica, di sofferenza e la pratica ti fa andare via l'idiozia, la fatica, lo sforzo. Se sei costante e vai avanti concentrato su un obiettivo, l'idiozia pian piano se ne va, ma gli idioti non fanno mai quello, perché gli idioti sanno già tutti, gli idioti sono inconsapevoli di non sapere le cose. Allora, nel momento in cui hanno un cane, dopo si coalizzano. Si coalizzano fra i idioti, perché grazie al cane, e tutti gli idioti hanno un cane, e guardate che hanno sempre più o meno gli stessi cani, li gestiscono nello stesso modo, sono convinti delle stesse cose, quindi non li sembra vero. Da idioti emarginati che erano prima ai oggi idioti con un cane, e diventano migliaia di idioti e si coalizzano. Allora, coalizzandosi cosa fanno? Riescono a dare sfogo spesso alla loro frustrazione. Perché vi dico questo? Perché vi dico, guardate, ma come avete potuto credere se almeno avete gli occhi, ammesso che voi non mi conoscevate, ammesso che sia normale che voi mettiate dei commenti prima di andare sul profilo e informarvi sulla persona, che sta facendo questo scherzo, che sta facendo, come dire, mettendo questo post. Io non voglio dire, e questa è veramente comica, che quando ho scritto abbasso gli arbivori, i vegetariani e i vegani, voi doveste sapere che io sono vegetariano da più di 25 anni, adesso è quasi 30 anni, che ho fatto tutte le battaglie del mondo e nonostante tutto, siccome io rispetto tutte le scelte che fanno le persone, perché io non è che se sono vegetariano, che ho concepito questo modo di vivere in India tanti anni fa, nel Punjab, poi devo andare a rompere il cazzo come fanno tanti anni, che anche gli altri diventano. Io ho fatto questa scelta, ma per dire, io sono vegetariano e io ho fatto questa scelta, Grazie a tutti.